Mi aspetto un Arezzo che sia cresciuto, che sia cresciuto dal punto di vista fisico, che sia cresciuto nella dinamicità, nell'aggressività, che abbia anche la personalità per potersi confrontare con un avversario di categoria superiore. Quindi vorrei che si andasse a Cesena senza troppe preoccupazioni con una squadra garibaldina, sapendo che vai ad affrontare una squadra di categoria superiore, che è attrezzata anche per ben figurare, non nascondono propositi giustamente di poter ambire alle prime posizioni. Hanno un ottimo allenatore, giocano un buon calcio anche da dietro, anche con la costruzione bassa, e quindi dovremmo essere particolarmente bravi, altrimenti ci faranno buttare via troppe energie in questo momento della stagione facendoci correre a vuoto. Ho detto che può darsi che la formazione iniziale non sia la stessa di Carrara, però l'unico problema fisico è quello che riguarda Alessandro, che ha avvertito un fastidio all'inserzione dell'adduttore, non dovrebbe essere una cosa seria o particolare, tant'è vero che il ragazzo si sta allenando, ma si sta allenando solo su delle situazioni lineari. Quando arriva a forzare con la palla nel calcio incrociato o nei cambi di direzione secchi, avverte qualche fastidio, non vogliamo rischiare niente, proverà domani mattina, se domani mattina ci sarà un riscontro positivo, sarà a disposizione, verrà in panchina, se invece avrà il ben che minimo fastidio lo manderò direttamente in tribù. Ma i gironi, se adesso mi dovessero proporre di cambiare i gironi per andare nell'altro del nord, quello del nord-est, direi che sono contento di stare in questo. Poi, dove si colloca l'Arezzo? Secondo me sulla carta ci sono almeno tre squadre in questo momento superiori a noi, parlo di Alessandra, parlo di Cremonese, parlo di Livorno. Poi ce ne sono un gruppetto di altre, tra le quali posso mettere anche l'Arezzo, insieme al Como, insieme alla Viterbese, che hanno, secondo me, la possibilità, e si parla a 20 giorni dalla fine del mercato, la possibilità di essere la mina vagante, la sorpresa del girone, per poter rompere le scatole al terzetto che ho detto prima. Grazie. Grazie. Grazie.